accosta allora vuoi accostare? accosti lì stavi andando a 135 dove c'è il limite di 70 che cosa? sto andando a lavoro amico stai cercando di farmi accostare? stavi andando a 135 dove c'è il limite di 70 sto cercando di andare a lavoro secondo te perché sono vestito così? ho bisogno di vedere la tua patente centrale operativa ho qui un agente della polizia di Orlando che si rifiuta di farmi vedere la patente ed è appena salito in macchina e se n'è andato veramente? devo prendere la patente dietro ok indovina che ho appena fermato il vice sceriffo era la guida di una George Dodge Charger stavano andando a 135 all'ora in un punto dove c'è 56 ed erano senza sirene cosa devo fare? ma c'era un inseguimento no non c'era un motivo per cui andassero così veloci ha appena preso un'auto ad alta potenza aveva deciso che voleva giocarci un po' beh fai quello che pensi di dover fare ok quindi scriverò una multa questa è la coppia della citazione e dovrebbe firmarla dovrà comparire davanti al giudice mi raccomando guidi prudente e passi una buona giornata grazie a tutti 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 Grazie a tutti.